Siamo nel secondo venerdì di quaresima e quindi nell'approfondimento della settimana santa trapanese. Siamo all'interno della Biblioteca Fardiliana di Trapani. Oggi parleremo di un argomento molto importante per la processione dei misteri, ovvero la musica dei misteri. E lo facciamo perché all'interno della biblioteca troviamo questo antico libro che è il Corriere di Trapani, datato 5 aprile 1896, in cui abbiamo praticamente un articolo che parla delle prime bande musicali che esistono durante la processione dei misteri, che erano presenti alla processione dei misteri. In questo articolo parliamo proprio della banda di Salemi, la banda di Trapani e la banda di Paceco. Ne parliamo per capire quali sono queste musiche dei misteri che già 125 anni fa suonavano durante il Venedissanto di Trapani. E lo chiediamo proprio al nostro carissimo andropologo, che è Pasquale Gianno. È un articolo molto importante perché ci dà testimonianza di quali erano le testimonianze musicali di quell'epoca. Noi sappiamo che la maggior parte delle marce funebri che vengono eseguite durante la processione dei misteri risalgono alla seconda metà del 1800. Nell'articolo ad esempio si cita la banda, la marcia musicale del maestro Ricci, Pace, e poi si fa riferimento anche all'Aione di Enrico Petrella. Petrella era un compositore palermitano che compose un'opera lirica nel 1858 dalla quale è tratta la marcia funebri che ancora oggi viene eseguita a Trapani. Bene, tu sei autore anche del libro La Musica dei Misteri e all'interno del libro troviamo anche delle marce funebri che vengono dedicate ad esempio al ricordo di imprese coloniali fatti dall'esercito italiano. La marcia funebri nasce fondamentalmente per ricordare la morte di un caro, di un familiare, di un defunto. In particolare a Trapani vengono ancora eseguite alcune marce che risalgono alle imprese coloniali che lo Stato italiano attuò in Africa alla fine dell'Ottocento. Volevo citare alcuni titoli, i poveri morti di Ambalaggi che ricorda la disfatta dell'esercito italiano in Abissinia, il cui generale era Pietro Toselli e appunto a Toselli è dedicata un'altra marcia famosa eseguita a Trapani. Naturalmente le marce funebri, anche io purtroppo sono autore di una marcia dedicata a mia mamma dopo la morte di mia mamma, ma molte marce funebri sono dedicate ai fratelli, alle mamme, ai padri, ai parenti più intimi. Appunto per questo tra le marce eseguite a Trapani possiamo ricordare ad esempio alla memoria del mio caro fratello Cesare. Cesare era il fratello di Attilio Ciardi, il compositore di questa marcia. Attilio e Cesare avevano composto nel 1850 un duo orchestrante, andavano in giro per l'Italia suonando Cesare il flauto e Attilio il piano e poi nel 1877 quando Cesare, che era molto famoso a livello anche europeo venne a mancare, Attilio, volle dedicare in memoria del fratello Cesare appunto questa marcia. Un'altra marcia che viene eseguita molto nota tra Trapani e Catanisa. Anche qua troviamo il connubio tra due fratelli, in questo caso si chiamavano Pippo Pernice e Pietro Pernice. Concludiamo con il senso di quello che sono le marce funebri nella processione dei misteri. Io dico sempre che noi bande siamo la voce dei misteri, ma come è composta anche religiosamente la marcia funebri, quella tipica, quella tradizionale? Le marce funebri eseguite a Trapani sono composte da tre periodi musicali che secondo me hanno un significato molto alto anche dal punto di vista religioso perché rappresentano i tre momenti che poi noi viviamo anche all'interno della nostra settimana santa. In particolare i tre periodi musicali che compongono la marcia funebri rappresentano il momento della sofferenza, del dolore che è precedente e poi al momento della morte che troviamo appunto nel secondo periodo della marcia. I cui i toni, anche le note sono stridenti, le note lunghe rappresentano nel dolore della morte e quindi troviamo delle melodie molto patetiche. Nel ritornello finale invece si passa dalle tonalità in minore alle tonalità in maggiore e quindi c'è un cambio totale di registro.